Il furgone del Mistero si è girato per le vie di Borgoloreto negli ultimi giorni per trasportare i tecnici incaricati di installare i cosiddetti termostati del teleriscaldamento, sistema sul quale Comune e AEM intendono svolgere un attento monitoraggio per rilevare ufficialmente la dispersione e prendere i provvedimenti conseguenti. Il veicolo però non reca alcuna insegna, né dell'AEM né di altra azienda. Uno dei residenti, vista la targa, ha effettuato una visura ACI e ha scoperto che si tratta di un mezzo a uso privato, quando solitamente l'AEM procede con mezzi a personale proprio. Si sono sentiti colpi di mazza sulle pareti degli alloggi popolari, i fili elettrici sono stati inseriti e messi in rete e gli apparecchi per il controllo della temperatura sono stati comunque collocati. Si tratta però di cronotermostati da calorifero, non termostati a sfera o centrali di controllo come prevede il teleriscaldamento. Strumenti nuovi ma impropri, ci segnalano alcuni inquilini che notano il cattivo funzionamento. Ed altronde perché il comune fa acquisti incomprensibili quando non ci sono i soldi per pagare alcune bollette ed evitare altri casi di morosità con distacco delle utenze. Sono domande che rimbalzano di casa in casa in uno dei quartieri più martoriati.